bello a tutti fourniters benvenuti su leontube in questo video andiamo a vedere come fare la missione danneggi avversari con il boomerang cinetico allora il boomerang cinetico lo troviamo in questo edificio qui a ormeggi ombrosi quindi quassù qui dentro lo troviamo sempre perché c'è una postazione fissa non so se ci siano anche altre postazioni ma questa è sicura proprio qui sotto dove sono entrato eccolo qua una volta che l'abbiamo e allora una volta che l'abbiamo con noi possiamo andare a cercare gli avversari o anche i boss ora vi faccio vedere un altro video in cui ho ho beccato i boss ok perfetta quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti